Ancora una tragedia del mare a largo di Lampedusa. Ieri ne ho fragato un'imbarcazione con 28 migranti provenienti dalla Libia. Sarebbero 21 i dispersi in mare. Secondo il racconto fornito dai sette superstiti, l'imbarcazione si sarebbe capovolta in acque territoriali italiane. Nel dettaglio, a circa 10 miglia a sud ovest di Lampedusa, la guardia costiera ha prestato soccorso a un'imbarcazione alla deriva, ormai semisommersa in procinto di affondare, con sette migranti a bordo, tutti uomini di nazionalità siriana. Sul punto è intervenuta una motovedetta della guardia costiera di Lampedusa sotto il coordinamento del dodicesimo centro secondario di soccorso marittimo della guardia costiera di Palermo. Tutti i naufraghi sono stati tratti in salvo grazie all'intervento del soccorritore marittimo della guardia costiera imbarcato a bordo della motovedetta. Le sette persone, esauste, sono state quindi portate in salvo a Lampedusa. I migranti, una volta soccorsi, hanno dichiarato di essere partiti lo scorso primo settembre dalla Libia, con a bordo 28 persone, tra cui tre minori, 21 delle quali, durante la navigazione, sarebbero caduti in mare per le avverse condizioni meteorologiche. Sono in corso le ricerche dei dispersi, con unità navali e un aereo ATR-42 della guardia costiera. Il centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della guardia costiera di Roma ha allertato i centri di soccorso libico, maltese e tunisino.